Cerca di allungare la serie positiva l'Amen Scuola Baschettarezzo impegnata domenica alle 18 sul parquet della cestistica Odace Pescia. Dopo due successi consecutivi gli Amaranto proveranno a dare continuità ai propri risultati sul campo della cenerentola del Girone Pescia, attualmente ferma a quota 0 punti. Non inganni però la classifica perché i pistoiesi nelle ultime giornate sono stati battuti per due volte con soli due punti di scarto. Dopo il cambio in panchina la cestistica Pescia è cresciuta riuscendo a sfruttare maggiormente i propri punti di forza. Attorno all'eterno ma sempre solido Cempini i riferimenti offensivi sono l'ex PL Livorno Buzzo e i meacci giocatori provenienti dalla Cigold. Oltre a loro Pescia può contare anche sull'esperienza e i centimetri del pivot Passaglia con i giovani Tealdi e Ruggiero capaci di dare già un'impronta positiva alla squadra. L'Amen dopo aver recuperato Castelli dovrà dimostrare di essersi lasciata alle spalle definitivamente il periodo negativo. Palla 2 di questo incontro domenica alle 18 al Palla Borrelli di Pescia. Arbitri dell'incontro saranno i signori Corso di Pisa e Vagni Luca di Firenze.